Da ottobre 2015 è attivo, per le vie del centro di Parma, il nuovo servizio EcoVagon. Si tratta di un progetto sperimentale, pensato dal Comune di Parma e da IREN, per migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti e dare ai cittadini della nostra città nuove possibilità di conferimento, in alternativa al calendario di raccolta standard. EcoVagon è un sistema facile ed accessibile a tutti gli abitanti del centro storico e dell'oltre torrente. Basta cercare i mezzi di servizio, che portano la scritta inconfondibile EcoVagon in sosta nei punti prestabiliti e consegnare i propri rifiuti. Il sistema prevede la raccolta gratuita di plastica, barattolame e contenitori Tetra Pak, da raccogliere nei sacchi forniti in dotazione da IREN. Per il rifiuto residuo, invece, rimane attiva la tariffazione puntuale. Infatti, ogni mezzo EcoVagon è dotato di uno speciale dispositivo elettronico, che legge il chip del contenitore e lo contabilizza a carico del cittadino che effettua il conferimento. Nei mesi scorsi, tutti i cittadini del centro e dell'oltre torrente hanno ricevuto a casa il calendario con i percorsi e gli orari delle fermate previste. I camion EcoVagon effettuano soste di 25 minuti in 32 punti fissi della città, oltre a soste di 2 ore in 4 ulteriori punti fissi, dalle 12.30 alle 18.30, giorni festivi esclusi. Con EcoVagon, il servizio di raccolta in centro e inoltre torrente è garantito 6 giorni su 7. Per avere sempre a disposizione sotto mano la mappa e gli orari del servizio EcoVagon, vai sul sito internet www.servizi.irenambiente.it Inserisci il comune e la via di residenza e troverai tutte le informazioni necessarie. Ci vediamo in centro! Grazie a tutti!